Con l'approvazione del disciplinare della circolazione estate 2021, oltre all'istituzione della ZTL, zona traffico limitato, sono state disciplinate anche le aree pedonali permanenti e quelle a carattere stagionale, le aree di sosta riservate ai residenti proprietari di immobili, le norme generali e le procedure per il rilascio di pass strisce blu nel comune di Castellabate. Sono state individuate infatti alcune aree pedonali urbane nelle zone maggiormente frequentate a Castellabate Capoluogo e nelle frazioni Santa Maria, San Marco e Lago. La società in house Castellabate Servizi SRL, che gestisce il servizio di sosta a pagamento, provvederà presso i propri uffici di Via Roma-Santa Maria al rilascio degli abbonamenti per i parcheggi. Il controllo è affidato agli ausiliari della sosta della Castellabate Servizi e agli agenti della Polizia Municipale. L'assessore delegato alla viabilità, Salvatore Marinelli, dichiara in merito all'intera viabilità comunale. Voglio precisare che con l'entrata in vigore del nuovo disciplinare del traffico vengono chiarite anche le modalità di rilascio dei pass e individuate le aree pedonali per l'estate 2021, molto importanti per la sicurezza dei pedoni negli orari caratterizzati da maggiore affluenza. Inoltre voglio ringraziare per il lavoro sinergico il comando della Polizia Municipale, impegnato fin dallo scorso anno anche in operazioni di controllo su strada legate alla pandemia. Grazie a tutti.